Importanti novità nella vicenda Cose di Lana Supermaglia, l'azienda tessile di Sansepolcro che aveva visto mettere in serio pericolo il suo futuro dopo che ad inizio marzo non era stato rinnovato dal Tribunale l'affitto ad azienda Supermaglia che detiene il 100% delle quote di Cose di Lana. I lavoratori erano anche scesi in piazza e c'era stato l'impegno da parte delle istituzioni di cercare una soluzione. Nei giorni scorsi è stato proprio il sindaco di Sansepolcro Mauro Corneoli ad ufficializzare la notizia che il Tribunale ha concesso l'affitto d'azienda all'imprenditore Marcello Brizzi, titolare dell'azienda BMA di Sansepolcro. L'obiettivo è quello di dare una nuova vita al nostro settore maglieria e non disperdere l'importante professionalità delle maestranze di Cose di Lana, commenta il sindaco Corneoli, una lunga storia di eccellenza a Sansepolcro che ci auguriamo possa continuare in questa nuova esperienza. Adesso il sì definitivo dovrà arrivare dai sindacati e dai lavoratori.